Vittoria travolgente sul campo del Longarini di Villapotenza per banca macerata rugby. I uomini di coach Jepson hanno travolto 44-3 l'unione regbistica con Itana, fornendo una prestazione di grande impatto atletico in difesa, dominando in mischia e sui punti d'incontro, con ripartenze veloci alla mano e inserimenti ripetuti sia da tre quarti che dagli avanti. Ben sette le mete realizzate, due di Pazzaia e una ciascuno per Acciarresi, Romagnoli, Poloni, Ronconi, Capitanto Massetti e Svampa. Ok, oggi è una bellissima partita, abbiamo visto tante cose che lavoriamo in allenamento, abbiamo visto anche le talenti di certi giovedoni da cambiare il ruolo e di lavorare per la squadra. Abbiamo fatto delle mete di qualità, abbiamo giocato in rugby come al solito e questa volta l'altra squadra non ha segnato i punti. Allora 44-3 per me va molto bene, è un bellissimo regalo di Natale e andiamo avanti da questo punto. È stata una partita molto combattuta, ci siamo giocata bene, abbiamo giocato un buon rugby, abbiamo fatto il nostro gioco, l'abbiamo completato per 80 minuti, sono molto soddisfatto della nostra partita, io non sono mai soddisfatto della mia, quindi complimenti al gruppo e un buon gioco, complimenti a tutti. È una partita davvero davvero bella da parte nostra, ci abbiamo messo a cuore, veramente a cuore, tutto quello che avevamo. I ragazzi hanno dato quello che potevano dare, siamo tutti felici, tutti strafelici, buon Natale, ci rivediamo al prossimo.